e poi lo chiede di spostato da parte inferiore a destra come se fosse il nostro quadro quindi abbiamo a disposizione tutte le nostre immagini quindi abbiamo copiato un canale infrarosso e lo buttiamo dentro l'infrarosso falso colore ma assorbe l'UV quindi potrebbe essere bianco di italiano Grazie a tutti